Buongiorno a tutti, sono Michele Amenta, sono primario dell'Urologia di Porto Gruaro, dell'USU4 del Veneto orientale. Sono qui oggi insieme al professor Antonini, andrologo di fama internazionale e con lui abbiamo iniziato anche qui a Porto Gruaro un percorso di chirurgia andrologica per i pazienti affetti da disfunzione reattiva severa, quindi un percorso chirurgico che porta questi pazienti alla possibilità di poter avere un impianto protesico penieno moderno con una tecnica di cui è possessore in Italia solo il professor Antonini, a quale passo la parola. Grazie Michele, sì in Europa siamo l'unico centro che effettua l'impianto mini invasivo con la tecnica infrapubblica, siamo contentissimi, abbiamo iniziato oggi i primi tre impianti qui a Porto Gruaro, ringraziamo il primario professor Amenta, siamo pronti a portare anche qui in Veneto, anche perché molti molti pazienti del Veneto afferiscono al nostro centro romano, abbiamo deciso grazie alla lungimiranza del professor Amenta di cominciare a sviluppare questa chirurgia qui perché tanti sono i pazienti affetti da deficit erettile, tanti sono i pazienti che hanno effettuato una prostatectomia radicale per una malattia molto importante oncologica, finalmente possiamo dare una risposta a tutti questi pazienti affetti da un problema emotivo, sociale oltre che funzionale davvero importante. Grazie Michele, siamo pronti, vai!